Abbiamo in linea Alessandro Allegri di Ambrosetti Sim per un commento di preapertura. Dottore, buongiorno e ben ritrovato. Buondì. Allora, Allegri, con lei vorrei incominciare da quanto è accaduto e potrà accadere sui mercati. Perché dopo nove sedute consecutive il Fuzzimib ieri ha chiuso con un rosso dello 0,20%, i valori di preapertura non sono buoni. Veniamo da una fase euforica, nove rialzi consecutivi, però è interessante notare anche che negli Stati Uniti è stato raggiunto un record come i 26 mila punti e poi è stato subito perso, non mantenuto. Vuol dire che dopo la frenesia rialzista delle prime settimane siamo giunti ad una pausa di riflessione? Diciamo che una pausa di riflessione ci sta sicuramente, nel senso che un inizio d'anno così positivo realmente non si vedeva da parecchio tempo, sia in America ma soprattutto in Europa e ancora di più in Italia, che è uno dei mercati che più ha sorpreso gli operatori in termini positivi, nel senso che ha permesso una crescita significativa in pochissimi giorni. Che questo sia un elemento indicatore di futuri rischi a livello proprio di ciclo di mercati azionari, riteniamo sia assolutamente prematuro. Probabilmente i mercati hanno fatto buona parte del percorso iniziale, e hanno bisogno di prendersi qualche giornata, forse una settimana, prima di trovare di nuovo un appeal che rimane comunque potenzialmente positivo. In particolare l'Italia, avendo corso molto, qualche flessione ulteriore nelle prossime sedute potrà testarci. Ora, Allegri, che cosa ne pensa invece degli Stati Uniti? Vorrei parlarne maggiormente, perché abbiamo visto davvero qualcosa di straordinario. 5-6 sedute si è fatti i mille punti di Dow. Leggevo anche il report di un Dow Jones a 30 mila punti addirittura sulla scia della riforma fiscale. Sembra credibile, plausibile? Già quando commentavamo, mi ricordo, i 20 mila ci sembrava una soglia remota ed erano neanche due anni fa. Allora, è sempre un discorso di spazio-tempo, nel senso che pensare a delle crescite marcatissime in pochissimo tempo, secondo noi è abbastanza difficile da sostenere. Da un altro lato, il mercato è lontano, il mercato americano in particolare, da una situazione di potenziale crisi simile a quella che si è scaturita con il 2000 piuttosto che il 2007. Insomma, siamo lontani da queste situazioni. Certo, è un mercato che sta crescendo molto, con volatilità contenuta, e quindi difficilmente potrà proseguire con questi ritmi. Però non vediamo una situazione di crisi potenziale. Il ciclo economico sta riprendendo anche in Europa in maniera molto significativa, e questi sono tutti elementi che dovrebbero sostenere i mercati. È possibile che l'America inizi a crescere o si stabilizzi in termini di quotazione e lasci spazio per un flusso di capitali verso mercati che sono molto più indietro in termini di crescita, e tra questi sicuramente l'area euro. Allora, Allegri, vediamo invece anche il rendimento del titolo di Stato americano a 10 anni, al 2,55%. Ieri è arrivato un downgrade dall'agenzia di rating Dagong. C'è da osservare che comunque Cina e Stati Uniti sono ai ferri corti da molto tempo. Ad esempio, gli Stati Uniti stanno impedendo l'acquisizione di società americane da parte della Cina, mi viene in mente MoneyGram da parte di Alibaba. Però è significativo che il decennale americano sia sotto pressione. Ci dovranno essere moltissime emissioni di titoli di Stato americani per finanziare la riforma fiscale, forse quasi un eccesso di carta americana. Che cosa significa questo? Una parte del movimento rialzista a livello di tasso sul decennale sicuramente è stata fatta. Le pressioni, le preoccupazioni maggiori a livello di ciclo economico, ma che quindi coinvolgeranno anche il mercato azionario, arrivano sicuramente dalle obbligazioni, cioè dai tassi di rendimento. Le attese per uno sviluppo dell'inflazione sono confermate. Dal nostro punto di vista probabilmente i dati attuali di inflazione sono molto più contenuti di quello che dovrebbero essere. E quindi nel corso dei prossimi mesi uno scossone ai mercati potrebbe arrivare proprio da questo, cioè da un'inflazione che riprende, riprende in maniera normale, ma è comunque al di sopra come dati rispetto a quelle che possono essere le attese. Sicuramente la pressione sui tassi continuerà e per gli investitori obbligazionari non è un momento semplice da gestire. In chiusura uno sguardo anche al mercato del petrolio, perché è significativo che, ad esempio, la soglia dei 70 dollari al barile non sia stata bucata. Siamo a 69 dollari e 15 centesimi, credo, valutazioni del Chicago Mercantile Exchange sul future a 30 giorni per il Brent. Ora, la ripresa c'è e sta procedendo a tutta forza, così come la fame di energia nel mondo. Anche qua, che cosa prevede nei prossimi due o tre mesi per il mercato dell'energia? La soglia dei 70 dollari è anche una soglia psicologica importante. Il fatto che non sia riuscito subito in questa fase a superarla ci preoccupa relativamente, nel senso che il mercato del petrolio sta dando comunque delle indicazioni di forza non indifferente. Quindi i target sono verso l'area 74-75 nei prossimi mesi e molto probabilmente il mercato avrà bisogno di qualche settimana di stabilizzazione, che può essere anche un'occasione interessante se vedremo delle flessioni significative, per poi andare comunque tendenzialmente verso i numeri che vi ho detto. Quindi comunque l'apprezzamento di petrolio per noi rimane confermato. Grazie allora ad Alessandro Allegri, di Ambrosetti Sim, per questo commento di apertura. Grazie ancora e arrivederla. Buona giornata. Arrivederci, Sabe.